Con la pensione in pagamento a dicembre l'Inps ha erogato un certo numero di pensionati anche la quattordicesima. Siamo con Jeanette Magnani che è dell'ufficio del Dipartimento Previdenza Spicigelle di Reggio Emilia. A chi è stata pagata a dicembre la quattordicesima? La quattordicesima a dicembre è stata sostanzialmente pagata ai pensionati che rispettando il limite di reddito previsto per le norme vigenti hanno maturato il diritto dopo il 30 giugno del 2018. Sostanzialmente sono o coloro i quali hanno compiuto 64 anni dal primo di luglio di quest'anno in avanti o i pensionati che hanno avuto la pensione con decorrenza successiva al 30 giugno. Per questi casi la quattordicesima anziché essere pagata a luglio come tutti gli anni viene effettuato è già previsto dalla circolare applicativa dell'Inps che venga pagata con la mensilità di dicembre e viene pagata in rate. Che importo avrà questa quattordicesima? Allora la quattordicesima non ha un importo fisso, ha un minimo di 336 euro e un massimo di 655 euro. Questi minimi e massimi variano in funzione del numero dei contributi che ha versato il pensionato e della qualità dei contributi, quindi della tipologia se autonomo o dipendente e in funzione anche degli eventuali redditi prodotti dal pensionato nell'anno 2018. Il reddito del coniuge è determinante? Per questa prestazione il reddito del coniuge non è per niente determinante, quindi si guarda esclusivamente il reddito lordo del pensionato avente diritto alla quattordicesima senza minimamente considerare i redditi del coniuge. Invitiamo tutti i pensionati che hanno compiuto 64 anni nell'anno 2018 oppure che hanno avuto la decorrenza di pensione nell'anno 2018 a rivolgersi ai nostri uffici per maggiori informazioni, controlli rispetto all'importo messo in pagamento dall'IMS sia che sia per l'intero anno 2018 sia che sia in rateo a dicembre per aver maturato il diritto nel secondo semestre. E ora parliamo dell'esenzione dal pagamento del canone RAI che è stata confermata anche per il 2019. I titolari di un'utenza elettrica per uso domestico pagano il canone mediante a debito nella fattura. Siamo con Barbara Vigilante dello Spicigelle di Reggio Emilia. Chi ha diritto a questa esenzione? Ne hanno diritto le persone che abbiano compiuto 75 anni il cui reddito familiare, quindi sia dell'intestatario dell'utenza che il coniuge non superi gli 8.000 euro annui. La scadenza per fare la domanda per l'intero anno è il 31 gennaio 2019. Noi consigliamo però di farla in anticipo per evitare che le prime rate siano già debitate sulle bollette e andare quindi a rimborso che è una procedura più complicata. Dove e come fare la domanda? La domanda si fa direttamente all'Agenzia delle Entrate o presso una direzione provinciale sul territorio oppure direttamente per posta alla direzione delle Entrate di Torino o eventualmente anche online.